Leopardi e l'albergo dei poveri, le Nuccia ed il Ponte della Sanità, il Carminiello e Mannesi, i Ponti Rossi e Madre Teresa di Calcutta, la Calata di San Francesco e la Salita del Moiariello. Questi ed altri luoghi di Napoli più e meno noti fanno parte dell'agenda Gesco, giunta quest'anno all'undicesima edizione. Stavolta l'idea è quella di raccontare una città meno visibile e scoprire la bellezza che a Napoli si trova ovunque, non solo nei luoghi più celebrati, attraverso lo sguardo di scrittori e fotografi. La cultura è anche sociale, che il sociale è anche cultura e cioè dedichiamo al finanziamento di un bel progetto già conosciuto in città denominato Spazzacammino e vale a dire finanziamo un gruppo di senza dimora che abbiamo organizzato in questi mesi e che si sono dedicati a mantenere più pulita la città di Napoli. Cento copie di agendo sono state inoltre regalate ai giovani e dalle famiglie di Forcella attraverso Giovanni Durante, il promotore della biblioteca Annalisa Durante all'interno dello spazio multifunzione di Piazza Forcella. Un'agenda serve ad agire, in questo caso è un'azione creativa e solidale che ha come ispirazione e anche come esito finale la città ed arricchirla ulteriormente, soprattutto sensibilizzando e acquendo la coscienza del fatto che qui c'è molto da fare, molto da lavorare. La forza di Napoli continua ad essere la sua cultura generativa, cioè una cultura capace di generare sempre nuove azioni positive in grado di combattere degrado, violenza, volgarizzazione, scadimento dei valori, perché Napoli è una grande metropole e vive dei grandi conflitti ideali e culturali che attraversano la modernità e il nostro mondo contemporaneo, però proprio per la sua originalità, per le sue vocazioni, per la sua grande tradizione storico-culturale è anche una città capace di generare antidoti che sono preziosi per la città stessa, ma credo siano una fonte ispiratrice di pensiero e di arte per un valore e un rilievo assolutamente universale.